per presentarvi finalmente Nina ed Atena, queste due cucciole meravigliose che avete visto tra le mie braccia nel corso di questa puntata. Allora, questa cagnolina dà subito la parola alla bravissima volontaria che l'ha salvata. Sabrina, raccontaci la storia di queste bimbe meravigliose. Allora, Nina e Atena arrivano da una cucciolata di dieci cuccioli, sono stati lasciati davanti a un rifugio a Reggio Calabria, non si sa ovviamente chi è il padrone, di questi dieci cuccioli purtroppo sono rimasti in vita solo sei perché gli altri quattro non sono riusciti a resistere a tutto quello che poi avranno passato. Loro sono venute con noi qua al nord, trovano cercano adozione, sono dolcissime, hanno cinque mesi e abbiamo un'altra sorollina da noi al pet rescue che è sempre una femminuccia dolcissima e quindi possiamo direi procedere subito dando il numero di telefono che i nostri telespettatori devono comporre per adottare. Allora, per adottare le nostre bestioline bisogna chiamare il numero 346-68-569-478. Ecco, Federico loro saranno taglie medio piccole. Taglio medio, sì. Quindi vanno bene un po' per tutti? Per tutti, per tutti. Sono dolcissime, come si può vedere tranquillissime, quindi sono alla portata di tutti. Hanno già tutte le vaccinazioni, sono pronte. Tutte le vaccinazioni, microcippate, quindi sono perfette per ogni famiglia. Aspettano solo voi, aprite il vostro cuore, date una casa a Nina e ad Atena. È la missione della nostra trasmissione, perché se decidete di allargare la vostra famiglia con un piccolo amico a quattro zampe, come sempre vi diciamo, non andate a comprarlo, perché l'amore non si compra, ma adottate un cagnolino nel rifugio della vostra città oppure sceglietene uno direttamente nella nostra bella trasmissione.